609 609 una pietraia non è ben chiaro ma direi di là non è ben chiaro ma direi di qua non è ben chiaro ma direi di qua non è ben chiaro ma direi senza lasciare il cambio ma direi di qua ecco qualcosa di sopra il suo mondo ma direi di qua siamo in traccia e allora andiamo non è benissimo non si capisco cosa c'è la strada non si capisco era uno spettio d'acqua non si capisco non si capisco non si capisco non tocca? no, non tocca lì c'è dritto sarà dritto lì dentro così fare il torrente mi piace come idea lì 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 just got my touch so in quanti ci passano 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 No, sassi. No, sassi. Top, eh? La casetta più bella di tutta la zona.